Come si vede la scuola del Gran Bucle in Montreale e in Livorno in Tuscany in marzo? Quali i tuoi target per questa tour? Quali i tuoi target per il team? Vogliamo vincere la squadra, ma non si tratta di chi. Il mio target è di fare ciò che sia necessario per la squadra di vincere. E' bello di vincere una scuola, ma non importa. Quindi faccio ciò che la squadra vogliono. E la tua tour è buona? Non so, non so. Non ho mai fatto la Giro, quindi è difficile. Ma credo, è molto lungo per me vincere. Probabilmente non mi. Grazie. Grazie 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 a tutti.